Salvatore, sei il primo acquisto del 2022 del Monza, come hai vissuto questo trasferimento, come sono le tue prime sensazioni? Beh, è stato un momento indimenticabile che porterò per sempre con me e le sensazioni sono estremamente positive. A Monza ritrovi Giovanni Stroppa, con lui l'avventura Crotone e la promozione anche in Serie A, quanto è importante per te ritrovarlo? Sì, col mister ho già lavorato in passato, so già quello che richiede e questo è un bel punto di partenza. Conosci anche diversi compagni e anche questo ti può aiutare nell'inserimento? Assolutamente, giocare con compagni che conosco bene sicuramente sarà un punto a mio favore. Tu hai giocato in Serie A col Crotone, con l'Atalanta, conosci la categoria, due promozioni dalla B alla A, come si va subito in Serie A? Ogni promozione è a sé, di sicuro il detto non c'è due senza tre, speriamo che sia di buon auspicio. Possiamo dire che dopo tanti anni sei tornato quasi a casa qua vicino, sei tornato al nord? Sì, 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 questo è un altro punto per cui sono molto felice. Ci puoi raccontare il numero di maglia che hai scelto e soprattutto perché lo hai scelto? Il numero è il 79 perché era l'anno di nascita di mia sorella che purtroppo è venuta a mancare l'anno scorso. Giocherai anche per lei, possiamo immaginare cosa vuoi dire ai tuoi nuovi tifosi, cosa porterai a questa squadra? Assolutamente giocherò per lei e ai nuovi tifosi posso dire che darò sempre il massimo e mi impegnerò da oggi fino all'ultimo giorno che indosserò questa maglietta.